Ciao ragazzi sono Superseva, fratello del bianconeri, buonasera a tutti e grazie a Dybala che ci ha fatto pareggiare la partita per me vincere o pareggiare contro l'Inter stasera a me mi va benissimo lo stesso e comunque grazie al cielo che c'era il VAR stasera perché se non c'era il VAR a quest'ora il calcio di rigore non ce lo dava l'arbitro perché in alcune partite dicono il VAR funziona o il VAR non funziona adesso vi spiego tutto quello che è successo questa sera dunque nel primo tempo nonostante il gol preso da Dzeko a porta vuota nonostante che dopo che Chanogu ha preso il palo e Dzeko ha segnato a porta vuota loro continuavano a fare catenaccio per tutta la partita noi abbiamo avuto molte occasioni per poter cercare di pareggiare la partita ragazzi perché abbiamo tentato tutto per tutto per poter riuscire a dover gestire bene il possesso palla per quanto riguarda il centrocampo a me Bentancur non mi è proprio piaciuto non mi è proprio piaciuto per come ha giocato cioè se Bernardeschi è uscito perché si è fatto male alla spalla se non entrava Bentancur a quest'ora potevo fare entrare Artur che tra l'altro ha giocato io nel Bentancur non l'avrei fatto entrare neanche avrei solo fatto entrare Artur che ci poteva cambiare lo stesso la differenza al centrocampo e comunque meno male che Artur è entrato io a quest'ora Bentancur lo tenevo ancora in panca e poi secondo tempo abbiamo continuato a reagire quindi se hai visto qualcosa se hai visto che noi stavamo cercando tutti i modi di segnare nonostante che abbiamo tirato troppi palloni fuori tiri alti alle stelle tiri maledetti porca miseria ma centriamo da sta cazzo di porta cioè abbiamo tentato tutti i modi di segnare ragazzi ma perché continuiamo sempre a sparare tiri alle stelle e poi contro le tribune guarda che sappiamo tutti che dobbiamo mirare dentro la porta e poi situazione al VAR comunque cioè comunque Tevrai che dentro di rigore si fa prendere il pallone col braccio e questo è la calcio di rigore comunque il VAR palla chiaro ragazzi non vi venite a dire eh avete rubacchiato eh voi vincede facile col VAR ma che volete dire voi guardate che quando c'è una situazione al VAR il VAR palla chiaro il VAR palla chiaro quindi Tevrai ha preso la palla col braccio e Tevrai ha confermato il calcio di rigore grazie a Di Bala che ci ha fatto pareggiare la partita per me questo pareggio a parte che stasera abbiamo giocato contro l'Inter per me mi va bene lo stesso quando c'è un derby d'Italia possiamo anche vincere o possiamo anche pareggiare e per me questo può andare bene lo stesso grazie Di Bala che ci ha fatto pareggiare la partita e meno male che non abbiamo perso stasera e ci siamo tra l'altro portati a casa un punto e quindi per la prossima sarà fondamentale nonostante che Di Bala ha segnato il nostro Paolino Di Bala voglio dire una cosa ai nostri amici prescritti interisti, combinari e volevate vincere volevate vincere e invece avete pareggiato stasera con Paolino Di Bala va bene ragazzi io ho detto tutto se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate, iscrivetevi al canale mettete una campanella a quello su Facebook è tutto e noi ci vediamo al prossimo video come sempre ciao alla prossima come sempre fino alla fine Forza Juve alla prossima ragazzi